... Saprebbe indicarmi quali sono quelle fatte a mano? Queste. Queste sono fatte a mano. Per lei? Senza altro. Anche quelle. Anche quelle. Mi sa dire quelle fatte a macchina da un pastificio? Queste. Queste qui anche lei? No. No. Quali sono quelle fatte a macchina da un pastificio? Le può toccare? Queste. Queste sono fatte a macchina dal pastificio. Quelle fresche industriali? Per lei? Quelle. Queste sono quelle fresche industriali. Quelle dell'industria pastaia italiana. Ma è stata così brava? Quelle dell'industria pastaia italiana. Qual è invece di queste? Ma questa è difficile. Questa. Bravissime. E infine ve lo dico, quali sono le orecchiette che spesso... Un attimo solo, prendo la rincorsa. Le orecchiette che spesso... Ah, 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 vengono spacciate per fresche ma in realtà sono industriali. Queste. No, queste. Ti no, queste sono. Le vedi? Le vedi queste? Le vedi queste? Sono orecchiette industriali e diciamo la verità. Non facciamo di tutta un'erba, anzi di tutto un orecchietto, un fascio. Vendute come fresche, come tino, lo ribadiamo, c'è qui il nostro tavoliere, come trombate a mano. In realtà non vengono trombate a mano in alcuni casi, ma questo ci ha dato la possibilità di affrontare un tema che come sempre condiamo con un pizzico di ironia, con un pizzico di peperoncino, ma è molto serio. E per questo siamo all'interno del mercato cosiddetto di santa scolastica perché è diventato ormai tutto un mercato. E la tradizione, il folklore, la baresità sono andati un po' a farsi... Fottere. Fottere, ho sentito la regia che diceva Fottere, bravo. E adesso veniamo a raccontarvi questa storia bizzarra che succede a Bari. Ora, tempo fa una collega della Gazzetta del Mezzogiorno ha scritto un pezzo che effettivamente risulta vero, Tino, ovvero, è andata per comprare l'orecchiette. Non sappiamo se la storia è vera o di fantasia, ma è vera, nel senso che così succede. È andata a Bari Vecchia, ha comprato le orecchiette, ma la mamma è andata a casa e ha detto Tu e Coco, cioè, nel senso, uè, stupidella, che fai? Compri, tu barese, le orecchiette industriali, Tino, in guarda le orecchiette industriali, le orecchiette industriali, invece delle orecchiette fatte a mano? Non è che t'hanno frecato, e da dove vieni? Dal Giappone? Dall'America? Dall'Australia? No, da Bari Vecchia, che non lo sape. È lì e si è scatenata la faccenda. E allora a quel punto che abbiamo fatto noi, Tino, te lo ricordi? Eh, ma come lo ricordo perché? E cosa abbiamo fatto? Siamo andati dal negozio dove, lo ribadiamo, non tutte le signore di Bari Vecchia, mi raccomando, perché a Bari Vecchia ce ne sono tantissime di signore che fanno le orecchiette, non solo quelle dell'arco basso, noi stiamo parlando in generale. Bene, siamo andati nel negozio dove comprano le orecchiette che poi vendono, soprattutto ai turisti, perché, vuoi vedere, Tino, il giapponese spesso non sa nemmeno che per cucinare la pasta prima far bollire l'acqua che la deve mettere nel... Mettute zii, capito? Quindi che cosa vuoi che ne capisca? E allora possiamo fare una cosa che, oltre all'abusivismo, ha anche un po' della truffa. Dovrebbero essere queste, Tino, quelle fatte a mano, a 8 euro. E in realtà vendiamo a 8 euro queste che compriamo per cifre dozzinali dal negozio dove siamo andati. Ma il negozio cosa ci ha detto il negoziante? Senti, Tino, cosa ci ha detto il negoziante? Ma sei tu che avevi le orecchiette alle signore di Bari Vecchia? No. E ci gliele vende? Com'è? Chi gliele vende, lo sai? Boh. Scusi, mi hanno detto che qualcuno ve ne vedo, che servivi tu, Bari Vecchia. Io non lavoro qua, non lo so. Cioè, non le servite voi? Vabbè, ciao. Avete sentito? Il negoziante ha detto, no, noi vendiamo le... Ma sei impazzito? E invece, no. Tino, tu avevi detto a qualcuno che avremmo fatto questo servizio? Sì. Solo io e te, il segreto era quello. Bene, e cos'è successo? E' successo che un paio di giorni dopo la nostra incursione nel negozio, beh, siamo stati chiamati da un amico. Andò, c'è affascio. Diciamo per gli amici di Milano. Antonio, che stai combinando? Dici, no, perché stiamo facendo una... E no, non lo fare, perché la situazione è amara. E qual è la situazione? Perché, anche da Bari Vecchia, pur non sapendo quello che volevamo dire, ci vogliono fare il... No, 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 no. Ci vogliono fare lo scalpo. Tipo, lo scalpo. No, in realtà ci vogliono mandare in ospedale. E chi vogliono fare il nero nero? Nero nero nero. Ci vogliono mandare in ospedale facendoci prima neri neri. Perché stiamo svelando il segreto di Pulcinella, Tino, che a molti turisti vengono vendute orecchiette industriali invece che fatte a mano. Ma sai perché? Perché se no, poi quelle sono umide. Bravo. Perché? Hanno visto che, purtroppo, con la nav, con l'aereo, col treno, col monopattino, portandoli in America, in Giappone, l'orecchietta fresca, se non è ben essiccata come questa, fa la muffa, non la puoi cucinare. Quindi, ovviamente, il turista veniva qua, faceva il selfie e non la comprava l'orecchietta, perché poi passava la voce alla cognata, all'amico, al parente, non andare a comprare l'orecchietta. Fatti il selfie perché facciano la muffa, fanno la muffa. E allora, Tino, che abbiamo fatto noi? Ci siamo, ci siamo. Non è vero, stai dicendo una cosa non vera. No, invece noi denunciamo adesso, lo facciamo prendendoci tutte le nostre responsabilità che, complice di questa minaccia che abbiamo ricevuto, è niente po' di meno che il sindaco di Bari, Antonio De Caro, e la sua amministrazione. Tino, sì, gliel'abbiamo anche detto su WhatsApp, ci ha bloccato, però gliel'abbiamo detto su WhatsApp al sindaco De Caro. Sai perché? Perché se tu consenti a chi vendi abusivamente della merce di essere l'emblema della città di Bari, il simbolo della città di Bari, fai fare le copertine dei giornali patinati di tutto il mondo, dicendo questi siamo noi. No, non siamo questi. Noi siamo quelli che si fanno un mazzo dalla mattina alla sera, per cercare, qua ci sono tanta gente che si fa il mazzo, per pagare le tasse, per pagare i dipendenti, per pagare la luce, per pagare l'affid, per pagare le forniture, quando si possono pagare non si fanno i pagherò. Ok? E' bello come dicono a Bergamo, Gli è liscia, eh? Quando tu non pagherò, gli è liscia quando non pagherò, e quando non paghi niente è liscia. Quindi, se invece di incentivare il mercato dell'abusivismo, tanto da far innescare persino la truffa, Tino, si fosse intervenuto, come in tutte le città europee, per esempio per fare un mercato centrale, quello di Piazza Balenzano mi viene in mente, no? O il mercato del pesce, per tentare di dare vita a quelle strutture, non tenerle nel degrado con i topi grossi così, senza coda, no? Probabilmente avremmo anche dato valore, peso, economia al lavoro di queste donne. Anche perché è cambiato tutto, signora. Non è più come una volta. Una volta tu andavi lì, vedevi la signora che trombava a mano le orecchiette, compravi e te ne andavi. E c'erano solo le orecchiette. Quando le poteva fare durante la giornata? Oggi invece puoi comprare taralli, sott'olio, sott'aceto, paste di mandorla, cartellate, calzingel, puoi prendere le orecchiette verde, gialle, rossi, blu di tutti i colori, le puoi prendere grande, piccole, grado di saraceno, grano arso, di tutte le maniere. Se tu vai, Tino, c'è un mercato. È come questo, un mercato. Perché la bambarela è un mercato. E secondo te, Tino, è giusta una cosa del genere? Secondo me no! Ora diventa un poco di livore personale, perché non possiamo passare per i rombicoglioni a prescindere, Tino. E no, perché tu una volta dici una cosa e fai notare con simpatia. Abbiamo anche scherzato con il signore di Barilea che vogliamo tanto bene a quelle che fanno le cose come si deve. Vogliamo tantissimo bene. A quelle che invece spacciano la nostra tradizione, il loro saper fare, che hanno svenduto il loro saper fare, con questa roba qui, che per carità di Dio, voglio dire, chi non se ne può permettere, non se ne può permettere, non possono essere vendute alla stessa cifra, caro Tino. e soprattutto, Tino, dobbiamo dare dignità a questo tipo di lavoro, perché altrimenti si crea una disparità tale, perché poi tanti commercianti si chiedono, scusi, ma se io apro il negozio a Barivecchia, posso vendere senza pagare le tasse, senza rispettare l'HCCP, l'HPPB, senza mettere i guanti, tenendo esposti all'aria, la luce, al guano, il mio prodotto? Posso farlo? E no, è da fin, nel secchiello, a rispettare tutte le regole, poi vengono i controlli dei nas, l'ispe, 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 è un macid, è un macello. Allora, caro sindaco De Caro, una volta mi disse, durante una minaccia ricevuta, se vuoi, ti accompagno personalmente in questura, e allora io la invito formalmente, ad accompagnarmi personalmente in questura, a fare la denuncia, ma insieme a me, dobbiamo denunciarli insieme, il fatto che se uno dice la verità, anzi, voglio capire se la collega della Gazzetta del Mezzogiorno è stata minacciata di morte, come sono stato minacciato io, vorrei proprio capirlo questo, venire con me e insieme a me, denunciare il motivo per cui a Bari, ci sono degli abusivi di serie A, degli abusivi di serie B, dei commercianti di serie Z, capire come funziona, perché noi non ce l'abbiamo con le cosiddette signore degli orecchietti, o chiunque altra faccia questa roba qua, non ce l'abbiamo con loro, ce l'abbiamo con un'amministrazione che non ha ben definito quello che è il mercato della tradizione popolare, non sappiamo se il piattino di crudo a lungomare, andrà la lanztino, si può taccare o non si può taccare, si può comprare o no? No, non si può comprare, non in un momento, la sgagliozza davanti alla caserma della guardia di finanza, se può te frisci o no? perché sì? Perché se invece si mette il poveraccio disperato a vendere i mandarini, a vendere le arance all'angolo della rotatoria, vicino a un centro commerciale, gli devi andare a rompere i... Tino, hai capito, no? L'abbiamo già detto prima. Perché? Allora, facciamo un elenco di cosa si può fare e cosa non si può fare. Che dici, Tino? Sono d'accordo. Eh no, perché se lo può, vengo chiamato, sembra io, e sembra a me vogliono mandare all'ospedale o nero nero da qualche altra parte, eppure io sono peccato, no? A meno che non decidiamo che in questa città, se tu dici qualcosa che è sconveniente, che cerca di minare certi... qualche volta lo facciamo, e allora non può farlo, deve stare zitto, zitto, si deve mettere la coda in mezzo alle gambe e deve vedere il posto del sindaco De Caro che insieme ai bambini impara a fare le orecchiette. Ma a quei bambini, dopo che hanno fatto le orecchiette, dite anche che si possono mettere in qualsiasi angolo della città vecchia a venderle abusivamente quelle orecchiette o a truffare i turisti? Lo dite anche a quei bambini o no? Come? Con le sigarette, una volta così. Una volta il contrabbando, non esiste più il contrabbando, Tino, tu sei sempre fuori moda, questa è la verità. Va bene, è partito un po' alla coglionella, come spesso facciamo, con un pizzico di ironia, con il peperoncino che conta, ma adesso però siamo stufi di essere i capri e spiatori di tutti i problemi della città. Cioè, il problema della città non è Antonio Loconte e Quinto Potere che vengono a denunciare, no? Il problema della città è che non si risolve il problema che Antonio Loconte e Quinto Potere vengono a denunciare. Pensa che ovvietà è questa, no, Tino? Va bene, ok. Queste variano da 1,19 euro a 8, anche 11 euro al chilo. Eh sì, eh sì, Tino, anche a 11 euro al chilo. Perché in queste orecchiette non c'è soltanto la farina, Tino, non c'è solo la farina, in queste orecchiette c'è molto altro. Ci sono tasse, stipendi in queste qua, non in queste qui, queste lasciano l'angolino. In tutte queste ci sta il lavoro dietro, il lavoro delle persone. C'è il costo dell'energia, le bollette, il gas, c'è qualsiasi cosa dietro queste orecchiette. Quindi sappiate che se vi chiedono 11 euro è perché con quelli 11 euro hanno coperto le spese. Se ve ne chiedono 1,19 euro è perché c'è la macchina che si mette a fare orecchiette e le vedenze sono tutte uguali. Anche se sono fresche, sono tutte uguali. Queste non ce n'è una uguale, Tino. Perché seppure si cate, sono quelle fatte a mano veramente, ok? Anche i colori cambiano perché il materiale, la materia prima è diversa. Quindi miei cari, per ora e solo per ora, Tino, si prenotate all'ospedale già? Ti fai un po' di orecchiette con le cimbo di rato? L'acciuga l'hai portata. Ma la compriva? L'aglio, l'aglio e l'acciuga. L'aglio e l'acciuga. Allora, l'acciuga ce l'abbiamo, un po' d'aglio ce l'abbiamo. Si fanno con l'acciuga e l'aglio sfritto, se no non don't nude, cioè ve lo diciamo, non danno di niente, ve lo diciamo. L'aglio, apporto. Ok, abbondisce, abbondante, va bene. Allora, eccolo qua. E qui abbiamo tutti gli ingredienti per fare la recited crescendo rap come si deve. Come vuole la tradizione barese, quella vera. Perché una cosa è la tradizione, una cosa è, Tino, aspi. Auma auma. Aspetta, c'è l'amico primario, devo prenotare il posto all'ospedale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada